C'è una poesia di Umberto Saba inserita nella serena disperazione risalente quindi alla vigilia della prima guerra mondiale che si intitola Veduta di collina. Cercheremo di mostrare che nella misura in cui questa veduta di collina non avviene tale poesia risulta sintomatica di una civiltà anti-ecologica perché ignorante della materia e che anche per questo se non essenzialmente per questo si dà fra le altre cose alla guerra cioè alla propria autodistruzione insomma non si capisce Veduta di collina di Saba e non si capisce la prima guerra mondiale se non si mettono in relazione le due cose all'insegna e all'interno di una logica in logica della ignoranza e quindi distruzione della materia a causa di mancanza di ecologia. La poesia consta di sette strofe di due versi ciascuna a noi ce ne interessano solo cinque in quanto le due centrali risultano pleonastiche rispetto al suo significato Prima strofa Che vedo mai dietro l'erma collina che primavera così m'avvicina Già il primo verso esclude la possibilità da parte del poeta di vedere la collina Perché egli si interroga su cosa veda dietro la collina E quindi se è interessato alla dietro, a ciò che sta dietro, all'aldilà Sia nel senso della preposizione e avverbio Sia anche nel senso metafisico, religioso I due sensi essendo interconnessi Al di là Al di là Non può esserci l'interesse per il presente Per ciò che appare qui E quindi una visione che è interessata all'aldilà Non può essere interessata a vedere Ma è interessata a non vedere Essendo interessata all'invisibile Ciò che è al di là è invisibile Rispetto al presente Per definizione Che vedo mai dietro l'erma collina Qui abbiamo un esplicito richiamo all'infinito leopardiano Scritto un secolo prima E il significato di questa poesia è esattamente uguale a quello del diglio leopardiano Entrambi negano la materia presente Entrambe le poesie sono interessate all'aldilà Astraggono quindi dalla materia Ignorano la materia Rientrano Saba e Leopardi Almeno per quanto riguarda queste due poesie Perché vi sono tanti Saba Come vi sono tanti Leopardi E molteplici non solo L'essere in generale Come diceva Aristotele Ma l'essere di ogni singolo ente E quindi anche di ogni singolo uomo Ogni singolo uomo si dice in tanti modi Come aristotelicamente dimostrerà Freud Per esempio E quindi la mancanza di ecologia Di Leopardi e di Saba Va circoscritta alle loro varie espressioni Ma l'infinito di Leopardi è veduta di collina di Saba Significano la medesima cosa Cioè la mancanza di interesse per le cose L'interesse esclusivo verso i simboli Cioè verso l'astrazione Della materialità delle cose Un simbolo è una cosa astratta Un simbolo è una cosa che Che è alla ricerca dell'aldilà Che quindi si nega Che viene negata Indefinitamente E infatti il simbolo ha sempre a che fare Con l'infinito Infatti la poesia di Leopardi Si intitola l'infinito E come vedremo Veduta di collina di Saba Non è un tentativo di vedere una collina Ma è una celebrazione dell'infinito Quindi è un tentativo di essere ciechi Dinanzi alla collina Per vedere l'infinito Un po' come Empedocle Si accecava Secondo la leggenda Per vedere la verità Che non avrebbe a che fare con la vista E quindi con la materia Ma sarebbe qualcosa di astratto Che vedo mai dietro l'ermacollina Che primavera così ma vicina Primavera vuole a dire la vita Ciò che sta dietro la collina L'invisibile O soltanto intuibile In quanto immateriale In quanto coperto della materia Della collina E' ciò che dà la vita Che darebbe la vita Quindi noi vivremo Non della vita Non della materia Ma di ciò che vi sta dietro Di un simbolo Di un'astrazione Di un'entità astratta Un poco scende Poi risale appena Ed insensibilmente De ivis in sena Punto Qui non abbiamo il soggetto Ma perché non abbiamo il soggetto Espresso Perché l'infinito Non può essere circoscrivibile L'infinito che poi scopriremo Essere il soggetto vero Anche di questa strofa Saltiamo le due strofe centrali Giungiamo Alla quinta Rade casine Qualche massa oscura Dei vigneti Sul ciglio Dell'altura Azzurreggiano i pali C'è un minimo di descrizione Della collina Delle rade Casine Qualche massa oscura E qua L'oscurità E' data dall'essere massa Delle case Per cui dove c'è materia Ci sarebbe Cecità Oscurità Mancanza di Luce Luce invece Presente soltanto Dietro Al di là Al di là Dell'apparenza Al di là Della luce Luce Qui sarebbe soltanto Al di là della luce Visibile Vale a dire Nell'invisibile Sesta strofa Un piccol vetro Brilla E si accende A tutto il sole Questo vetro Può intendersi Sia Come quello Di una casa Che è l'unica cosa Che emancipa Dalla massa oscura Materiale La casa E lo fa Tramite l'artificio Del vetro Che non è una cosa naturale E che quindi In quanto artificiale Cerca di andare Al di là Della materia naturale Insomma Il vetro ha a che fare Con il logos Con il logos Che è simbolo E quindi Con l'astrazione E quindi Avvicinerebbe Alla verità Alla visione Intellettuale Il sole Si accende Grazie al vetro Quindi grazie al logos E quindi il sole Non è sole Il sole fisico Ma il sole È Platonicamente Cristianamente Ma anche con gli egizi Il sole Della verità Astratta Metafisica Dietro Ancora Come del mare Sull'idoro Mito Si vede l'occhio Di Dio L'infinito Ecco Finalmente abbiamo Il soggetto Di tutta La visione La visione Visione medievalmente Spirituale Di Dio Identificato con l'infinito Ecco Leopardi Nell'ultima parola Viene richiamato esplicitamente Come il primo verso Erma collina Infinito Erma collina Che non viene vista Perché quello che Si vede È l'occhio Di Dio Quindi In realtà Non siamo noi Che vediamo Ma è Dio Con il suo occhio Che vede L'astrazione Che prende Consapevolezza Di sé Nell'infinito Il mare Ovviamente È il simbolo Dell'infinito Per cui La veduta Di collina È una veduta Del mare Che si Insinua Nella collina E Tramite questo Insinuarsi Del mare Nella collina Avremmo noi Una Concezione Dell'infinito L'occhio di Dio Attua una sorta Di sabotaggio Del Dio Dell'occhio Dietro Come del mare Sull'idoro Mito Si vede L'occhio di Dio L'infinito Ma È il mare Quindi Questo come del mare Sull'idoro Mito È una Pseudo Similitudine Così come Nell'intera poesia Abbiamo una Pseudo Visione Dietro Ancora Ciò che interessa Così come Nella caverna Platonica Nessuno si preoccupa Della materialità Del muro Ma solo Delle ombre Delle luci Ci si preoccupa E di ciò Che sta dietro Siamo Accecati Da Dio O Dall'infinito Non vediamo La collina Così come In paradiso Nessuno È interessato Alla materialità Del giardino Ma tutti Sono interessati Alla significato Simbolico Al valore Divino Del paradiso E Questa poesia Possiamo inserirla All'interno Di una Storia Della visione Per cui Essa O non Fa problema O fa problema In Saba E in Lopardi La visione Il vedere Non fa problema Viene Eliminato Così come Nel cinema Nella misura In cui Si riprende Qualcosa Non si può Problematizzare Tale ripresa Ma essenzialmente Va prima di tutto Ripreso Passivamente Questo qualcosa E quindi Non possiamo Fare della visione Un problema Il cinema Non fa Della visione Un problema Allo stesso modo Saba e Leopardi Non ne fanno Un problema In quanto La eliminano A vantaggio Dell'invisibile Al di là Ciò che sta dietro L'infinito Kant Invece Ne fa un problema Della visione Anche se Lo risolve Negativamente Rispetto alla materia Negando la possibilità Di vedere la materia Allo stesso modo Fa la prospettiva Ad esempio Per la Francesca Che fa un problema Della visione Però nega L'indagine Della materia A vantaggio Dell'astrazione Prospettica Invece I maccaioli Per esempio Fanno un problema Della visione Ma provano Ad interessarsi Della possibilità Di vedere La materia Quindi Di vedere Una collina Con i macchiaioli Che operano Prima di Saba Si fa un importante Tentativo Di prendere Sul serio Fenomenologicamente La materia Poi Andrebbe La veduta Di collina Connessa Al discorso Della tecnica Che in quanto Umana È sempre Logos E in quanto Tale È sempre Astraente Si può Vivere Umanamente Senza tecnica Cioè senza Logos Cioè senza Astrazione Amin Amin Grazie.